Il giornalismo è asservito al potere politico Il giorno dopo l'ho fatto apposta Mi sono chiuso in casa una domenica Era anche una bella giornata a Cesena Non c'è stato un telegiornale Un telegiornale Né della RAI né di Mediaset Che abbia dato rilievo alla notizia Hanno parlato dei delfini dell'acquario di Rimini Cioè con un milione di persone mobilitate Con le schede che finivano Che in molti posti ne andate solo mille da firmare La gente del banchetto avrebbe voluto firmare più Ma non l'ha potuto Ne hanno raccolto 300 mila perché non li hanno fatti prendere di più Ecco, allora io voglio dire Se questo è il giornalismo Che ha cominciato ad accendersi su questo tema Perché qualche politico ha cominciato a commentarlo Come a dire Aspettiamo di decidere un minuto Poi lo facciamo Ovviamente sempre in termini snubistici Diceva Sì, ma Grillo Guardate, vi ieri la notizia A proposito di giornalismo Che vado veloce Di questa autorità garante delle comunicazioni Tale dottor Calabrò Che ha riunito il suo bel comitato E hanno fatto uscire Rivolto a tutta la stampa Giornalisti e quant'altro Questa notizia Siete invitati calorosamente Cari giornalisti Questa è l'autorità garante delle comunicazioni A dare l'adeguato spazio All'imprimare del Partito Democratico Cioè qui siamo al garante super partes Che detta A proposito di liberalismo Che detta ai giornalisti Gli argomenti di cui trattare Ci siamo al paradosso Attenzione perché qui è a rischio Tutta la classe politica E poi quando Tra virgolette il popolo insorge Ci vanno di mezzo tutti Anche perché Non vogliamo fare la fine D'aristografia francese Che per non perdere I propri privilegi E alla fine persa la testa Cavour Faccio una citazione Spero grata ai liberati Cavour una volta disse Le riforme fatte a tempo Non indeboliscono il potere Ma lo rafforzano E noi dobbiamo più presto Renderci conto Che aveva ragione In questo senso Vado proprio Velocemente Per quanto mi riguarda Credo che Un altro contenuto importante Di questa forza Che vogliamo far nascere Sia quello Della conclusione Del processo federale Noi dobbiamo Secondo il mio modesto avviso Battere Assolutamente Su una proposta Di vero federalismo fiscale In questo paese Dobbiamo spostare Il passaggio Dal centro Alla periferia E dobbiamo arrivare Da una periferia Che dal centro Perché questo è l'unico Modo amici Perché vi sia veramente Un controllo Su una spesa pubblica Perché i cittadini Possono avere vicino L'istituzione Che percepisce Principalmente Il danaro Così che Li possa controllare Con una quota Ovviamente Che andrà Allo Stato Ma non il contrario Come viene adesso O soltanto Per lì C'è qualche altro Imposto piccolo E guardate Questo non è Abbandonare Chi ha di meno Il suo destino Questo è Responsabilizzare Perché se io Do il mio danaro A chi mi è più vicino Lo controllo meglio E lo stesso Lo spende meglio Perché dare Tutta colpa Roma ladrona Qui ci sono Gli amici Che vengono Dalla campagna Ma anche Gli romani Non è tanto diverso Dare sempre colpa Roma ladrona È un comodo Paraccheggio Dice ma tanto La responsabilità Ce l'hanno a Roma Lo fanno anche I nostri politici A livello locale Quante volte Sentiamo un sindaco Un presidente di provincia Un presidente di regione Che dice Eh ma come possiamo fare Da Roma Ci hanno tagliato i fonti Io non lo voglio Più sentire questo Io voglio che La struttura vicina a me Sappia E il cittadino lo sappia Prima di lui Al sindaco Al presidente della provincia O al presidente della regione Quanti soldi ha Qual è il suo budget E come li spende No sempre Andare a colpa Roma È troppo comodo Questo io credo Che sia assolutamente Un dato importante Vado E vado a chiudere Presidente Eh Ci sono Molte posizioni Che ci devono Far riflettere Perché io ho sentito Qui parlare Di tante battaglie Liberali E repubblicane Ma bisogna Rendersi conto Di un dato Dal mio punto di vista Sulle nostre Storiche Orme Stanno camminando Anche altre parti Politiche Molto ma molto Più importanti E cospicue Elettonalmente Di noi A parlare Di atlantismo Di politica Dei redditi Di nucleare Di abolizione Delle province Erano i repubblicani E pochi altri Luminati Una volta Oggi lo fanno Tante altre forze politiche Che sono capaci Di ottenere Un ben più ampio Ascolto di noi E allora Se siamo Un'avanguardia Se vogliamo Tornare ad avere Un minimo Di appeal Sull'opinione pubblica Dobbiamo Preparare Qualcosa di nuovo Idei nuove Escrivere un programma Di vera e coraggiosa Prospettiva Su tutti i fronti Guarda Paolo Io condivido Tutto dei dieci punti Come lo dico Anche pubblicamente Condivido L'ordine del giorno Che sarà proposto Ma vorrei che da qui Partisse l'idea Che quella è una base Di partenza Questa è La base di partenza Per lavorare Sempre qualcosa di nuovo Perché è veramente Chiudo Noi non abbiamo Se vogliamo costruire Qualcosa di nuovo Mi piaceva molto Il gioco Tra aggettivo e sostantivo Non un nuovo partito Ma un partito nuovo Credo che sia giusto Noi non abbiamo Bisogno Di Esponenti Politici Che siano Uomini di partito E quando dico questo Sergio Lo sai a cosa Mi riferisco Farlo anche All'interno Del mio partito Non abbiamo Più bisogno Di uomini politici Che siano Uomini di partito Che salvino qualcosa All'ultata L'abbiamo passata Noi abbiamo bisogno Di studiosi Di teste pensanti Di gente che si confronti Quotidialmente sui problemi Che faccia delle valutazioni Di livello comparativo Di quello che fanno In altri paesi In altre realtà Noi abbiamo bisogno In questo paese E noi prima di tutti Di avere una rivoluzione Intellettuale Prima ce ne rendiamo conto E meglio è Grazie